Non solo di comandare i poliziotti, perché questa è una prerogativa che mi spera, non solo di difenderli, di rappresentarli adeguatamente, ma anche e soprattutto di frequentarli, perché se uno non frequenta la propria gente difficilmente è nella condizione di comandare la propria e quindi so che questa mia presenza qua qualche problema di Malox lo provocherà, ne ho già avuto addirittura, mi è stato detto che qualcuno vorrà la questione del fatto che io sia venuto qua a Venezia e abbia speso qualche soldo per venire, non lo so, io sono anche disposto a restituirlo dal momento che ho un concetto molto palimano e molto palimista di quello che è il mio essere rappresentante dello Stato, chi mi conosce sa che circolo tranquillamente con la mia banda quando non svolgo funzioni.